Ciao a tutti, Apple stavolta ha fatto un passo falso? Vediamo un po' Prima di iniziare, come al solito, mi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere un like al video e condividerlo Vi ricordo che potete supportarmi se dovete fare un acquisto su Amazon utilizzando il primissimo link che trovate qua sotto Quindi utilizzatelo, è proprio il primo Ci sono altri link in descrizione molto interessanti, tra cui anche quelli di offerte sempre su Amazon, Telegram Se non avete Telegram scaricato, installatelo E altri link molto interessanti, quindi aprite i link della descrizione, la descrizione non è messa a caso, dateci un occhio Allora, ero un po' indeciso se fare questo video perché si va veramente un pochino fuori tema E riguarda praticamente nulla con la fotografia Benché, chi mi segue da un po' sa che ogni tanto infilo dentro qualche video riguardante dischi e musica E quindi, è inutile sottolinearlo, che sono un appassionato di musica da tantissimi, tantissimi anni Veramente, veramente molti E di conseguenza, quasi di conseguenza, sono anche un appassionato, insomma, della qualità musicale Quindi, questo video gioca, insomma, a favore di queste mie, di queste mie forte, forte passione Che negli anni è cambiata, ma sicuramente non è scemata Come sempre, ci sono da fare un po' di premesse E giusto per puntualizzare, per arrivare anche al dunque È necessario conoscere, insomma, la situazione Cercherò di essere coinciso, ok? Dunque, Apple, sapete che ha tra i suoi marchi È proprietaria di Beats Beats è un'azienda Che produceva in maniera indipendente Cuffie e accessori audio Ma prima ancora è nata come Piccola Costola Di Monster Cable Cioè, un'azienda che produceva cari audiofili di altissima qualità E che si era buttata, insomma, nella produzione anche di cuffie E quindi le prime Monster Beats Che poi sono diventate indipendenti Che poi sono state acquisite da Apple Le prime Monster Beats erano, tutto sommato, abbastanza mediocri Ma erano stilose Cioè, erano proprio belle Quindi, c'è da dire che da un punto di vista della qualità audio Non erano il massimo della vita Non erano delle ciofeche, qualcosa di orribile Ma non erano comunque abbastanza Quando sono diventate indipendenti Quindi quando sono diventate un marchio indipendente La qualità si è alzata Ma comunque abbastanza lontana Dall'essere qualitativamente delle ottime cuffie Per poter andare a competere, insomma, nel mercato Abbastanza ricco e florido, appunto, delle cuffie Che è molto diverso rispetto a quello che ci si possa immaginare Una volta acquisite da Apple Le cose non sono proprio cambiate tantissimo Cosa intendo dire? Che qualitativamente non ci sono stati dei particolari miglioramenti Anche da un punto di vista dei materiali Diciamo che non erano prodotti assolutamente Apple Infatti il marchio è rimasto assolutamente indipendente Io ho avuto diverse bits Le ho provate Devo dire che erano abbastanza discutibili di qualità Non c'è nulla da dire Vantaggio soprattutto delle ultime bits Qual era il fatto che si integrano assolutamente Perfettamente con l'ecosistema Apple E, ahimè, gli anni passano Non ho più tanto il tempo di mettermi sulla poltrona Con un paio di cuffie Attaccate all'amplificatore Col cavo E ascoltarmi E degustare un po' di musica Quindi diciamo che La fruizione ormai della musica È un po' più frugale Mettiamola così Ultimamente però le cose sono cambiate Perché Le ultime cuffie che ho Che utilizzo Sono quelle che utilizzo di più Sono delle bits Delle bits solo pro Che devo dire Sono fatte bene Primo, proprio fatte bene La cancellazione del rumore È una roba veramente meravigliosa Cosa che comunque si scontra un pochino Anche con Diciamo i criteri audiofil Ma suonano bene Devo dire che suonano veramente bene Cioè Ascoltarle Ascoltare le cuffie Devo dire che Ascoltare le cuffie, attenzione Devo dire che è una cosa Piuttosto piacevole Ascoltare le cuffie Poi ovviamente Le cuffie vanno utilizzate Per ascoltare Un determinato tipo di musica Questo è il primo presupposto Secondo presupposto Online Ci sono ovviamente Naturalmente Già unboxing Nonché recensioni Di queste Di queste fantastiche cuffie Che ha tirato fuori Apple La maggior parte La maggior parte Ovviamente non tutti Tutte queste recensioni Arrivano da persone Che Di professione Fanno Come dire Le recensioni Di elettronica L'ascolto musicale Audiofil È tutta un'altra cosa Cioè Che senso ha Io credo Dire Uh queste cuffie Sono fatte bene E suonano benissimo In che termini Non è semplice Descrivere In un video Spiegare A parole Quali sono le differenze Tra una cuffia E l'altra E perché Una cuffia Suona bene Di fatto Mi sono convinto A fare questo Questo video Che non presumo Che non avrà Grossissime visualizzazioni Però me lo sentivo Di farlo Sinceramente Perché Perché Di fregnacce Ne ho sentite Veramente tantissime Veramente tante Ma tante Tante A cominciare Ovviamente Dal prezzo Ci mancherebbe Che comunque È elevato E solleva Appunto Questo dubbio Il dubbio Del Di queste cuffie Che sono Difficilmente Si capisce Qual è Il target Di queste cuffie Ma Questo ci arriviamo Tra un po' Io ho un passato Da Audiofil Che non è Una Non è una parolaccia Non è nemmeno Una malattia È semplicemente Il fatto Che Una persona Abbia convertito La semplice Passione musicale Nell'esaltazione Nell'elevazione Al massimo Della qualità Musicale Di ascolto Di determinata Di determinata Musica Quindi A me piace Ascoltare Della musica Ma piace Ascoltarla Con Una Con 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 una certa Ricercatezza Perché Avendo Anche avuto Dei trascorsi Musicali Professionali Non sono Un Come dire Un Cantante Un Uno strumentista Assolutamente Mi sono sempre Interessato Della parte Tecnica Che secondo me Era la più Interessante Detto proprio Sinceramente Ho comunque Una buona Un buon bagaglio Che mi sono portato Avanti Negli anni Oltre Ovviamente Appunto All'aspetto Audiofile Cioè Ho passato Anni Lo dico Tranquillamente A buttare via Soldi In impianti Megagalattici Incredibili Macintosh Meridian Sonus Faber Cioè Comunque Cose Che comunque Richiedevano una certa Ricercatezza Per andare a tirare fuori Quel determinato suono Che poteva venire fuori Da Che ne so Un Dark side of the moon Per dirne una Per esempio O altri dischi Che sono stati Incisi Con delle particolarità Che soltanto Certi impianti Effettivamente Ti riescono a Tirare fuori Per dire Anche Nella maniera più assurda Anche Nell'acquisto di cavi Che possono costare Veramente Delle cifre Esorbitanti Ho ancora Un impianto Ho venduto Praticamente tutto Perché come dicevo Ahimè Il tempo è quello che è E poi sono sincero Mi sono convertito Comunque Agli MP3 E quindi Alla musica in streaming Che è una cosa Che fa caponare La pelle Effettivamente Chi Realmente Si approccia Alla musica audio In maniera audio Cioè Tirando fuori Il massimo Della qualità Dalla Dal disco Dalla musica Che si sta In qualche modo Ascoltando Concludo qua Perché se no Vado avanti A Iosa A parlarne Sta di fatto Che Apple Ha tirato Fuori Un paio Di cuffie Che io Sinceramente Stavo già Attendendo Da tanto Tempo Da tantissimo Tempo Perché Perché comunque Io so che Apple fa le cose Fatte molto bene Ne sono assolutamente Convinto Costano care Ma Secondo me Si può discutere Sul più o meno Caro Ma secondo me La qualità Assolutamente In questi casi La si paga Enormemente Enormemente Senza Senza Ombra di dubbio Mi aspettavo Un paio di cuffie In una fascia Di prezzo Intorno ai 300-400 euro E tutto sommato Non nascondo Pensavo già Di poter acquistare Un paio di cuffie Del genere In realtà Le cuffie che sono uscite Che si chiamano Airpods Max Quindi non pro Non altre cose Su cui si era speculato In realtà Costano 629 euro Una cifra Molto elevata Per un paio di cuffie Che onestamente Non si capisce Dove si vanno a collocare Cosa intendo dire Il prezzo Non è alto Di per sé Perché Chi Si approccia Al mondo Audiofil Sa benissimo Che 629 euro Sono il prezzo Di un paio di stacks Se andate a vedere Sul sito Di stacks Produce cuffie Elettrostatiche Il modello base Costa intorno ai 600 euro Grosso modo Per arrivare poi A migliaia Migliaia di euro Per un paio di cuffie E cuffie ovviamente A filo Se non ricordo male Il modello base Non include L'alimentatore Che comunque Deve essere Per sua parte Che comunque Costa più di un migliaio Di euro Per farvi capire Ok Se andate a prendere Un paio di Mitchell 600 e rotti euro Sono una fascia media Qualcosa di Di medio Quindi Se parliamo Di cuffie Audiofil Cioè Capaci di tirar fuori Un Tipo di Di Suono cristallino Un tipo di suono Equilibrato Soprattutto con Determinati Tipi di musica Perché Una cosa che non viene detta Che Non è che tu acquisti Un paio di Audiofilmente parlando Non è che acquisti Un paio di cuffie E ci ascolti tutto Acquisti un paio di cuffie E quel tipo di cuffie Sono adatte Ad un tipo di musica Io ricordo Ai tempi avevo acquistato Perché di cuffie Ne ho acquistate Veramente tante E Vi dirò Ai tempi non mi spaventavano 600 euro Per un paio di cuffie Ho avuto Anche delle HD 600 Seineizer Che venivano vendute Nel cofanetto Spettacolare Incredibili Ho avuto un paio Di Di grado Le grado Per esempio Non suonavano Assolutamente Bene Con La musica moderna Erano Delle cuffie Da Musica classica Lirica Forse un pochino Di 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 jazz Quello classico Ma la musica Assolutamente moderna Contemporanea Non c'era Verso Cuffia Tipo di musica Cuffia Tipo di musica Ok Poi è ovvio Che nessuno vi vieta Di andare A prendere Un paio di cuffie Ascoltarci Qualunque cosa Ma qui stiamo parlando Comunque Di fasci di prezzo E cifre Che non sono proprio Così abbordabili Quindi Se siete abituati Normalmente A pensare Che un paio di cuffie Costino 30 40 50 80 100 euro Non di più Tant'è Probabilmente Avete anche già Smesso di Vedere questo video Perché non vi interesserà Minimamente O avete già pure Messo il pollice Verso Perché non esiste Spendere 600 euro Per un paio di cuffie Ma vi ricordo Che esistono automobili Da 20 30 mila euro Ci sono automobili Da 80 90 mila euro Ci sono automobili Che ne costano 100 200 300 mila euro Ok Quindi Non è che Chi compra Un'automobile Da 100 mila euro Butta via i soldi Semplicemente Ha delle esigenze E ovviamente Anche Delle capacità economiche Completamente Diverse È soltanto È soltanto una questione Di sapere approcciare A un tipo di mercato Che in qualche modo Si possa conoscere Perché Non ci scandalizziamo Se vediamo un'automobile Da 100 mila euro Però ci scandalizziamo Se vediamo Delle cuffie da 600 E questa è la questione Così come Se io avessi iniziato A dire Con il video Vi parlo oggi Delle Stax Lambda Da fascia media Di casa Stax Appunto Un paio di cuffie Da circa 1200 euro Se non ricordo Benissimo La maggior parte Di voi Avrebbe fatto una cosa Di voi Nel senso di Magari Chi non è interessato Appunto Alla musica All'audiofilia Piuttosto che Agli accessori audio Così Come dire Costosi Avrebbe fatto una cosa Avrebbe spento E basta In questo caso Parliamo di una cifra inferiore Però parliamo di Apple Quindi siamo tutti pronti A puntare il dito E dire Ha sbagliato Perché costano troppo Non ha sbagliato Perché costano troppo Secondo me Ha sbagliato Perché non ha chiarito Effettivamente il target Cioè Un paio di cuffie Che costano 100 euro 200 euro Sono una cosa Delle cuffie Che costano 629 euro Sono un'altra cosa Un'altra bestialità Incredibile Che ho sentito È Queste cuffie Sono destinate A una fascia Professionale Cioè Ai professionisti Della musica Questa È una delle più grossi Diozie Che si possa sentire Per un semplice motivo Perché chi Si approccia Si approccia Comunque Diciamo Utilizza un paio di cuffie Dal punto di vista professionale Quindi Per un montaggio audio Audio video Piuttosto che Registrazione Piuttosto che Ascolto Utilizza un paio di cuffie Che si chiamano Monitor Cosa sono Le cuffie E le casse Anche monitor I diffusori monitor Sono Dei diffusori O delle cuffie Che non hanno Colorazione sonora Cioè Hanno una linea Di risposta In tutte le frequenze Il più piatta possibile Cioè Per essere I più versatili E Non colorare il suono E dare la possibilità A chi Utilizza appunto Queste cuffie Di O casse Diffusori Di andare A equalizzare il suono Quindi a modificarlo E avere una buona risposta Appunto Dopo tutte queste modifiche Il sunto è questo Delle cuffie monitor Come anche dei diffusori monitor Non costano tanto Un paio di monitor Costano intorno ai 200-300 euro 400 Ovviamente hanno Assolutamente il cavo Non hanno Il bluetooth Non hanno Nessun tipo di trasmissione wireless Il wireless La mancanza di cavo È sinonimo di Rischio di perdita dati Quindi assolutamente Non se ne parla Cioè Il cavo Ci deve assolutamente essere Quindi queste Non sono cuffie professionali Non lo sono Del resto Non sono nemmeno Cuffie audiofil Cioè Cuffie destinate A chi cerca Dalla Insomma Dalla musica Di tirare fuori Quel tipo di risposta Quel tipo di Suono Che teoricamente Ha il colore Musicale Preferito Un esempio Di colore musicale È la risposta Alle bassi frequenze La risposta Media Sulle voci Una risposta Molto buona Sulle alte frequenze Un esempio Proprio Lampantissimo E quindi Si va Oltre Cioè 600 euro Per un paio Di cuffie Audiofil Sono tutto sommato Non sono tantissime Ok Si va Si va un pochino Oltre Si va ad acquistare Altri Altri tipi di cuffie Anche le Benghi Olufsen Benché io non abbia Un particolare amore Per 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 Benghi Olufsen Visto che È un altro marchio Che è nato Per essere Più di stile Tecnologico Che non Per essere Una risposta Qualitativa Alle elettroniche Già presenti Sul Sul mercato Quindi queste cuffie Secondo me Non rispecchiano Nemmeno La richiesta Audiofil Del 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 mercato Che comunque Come Degli articoli Che si sono potuti Leggere in questi giorni È una nicchia Cioè I produttori Della componentistica Di queste cuffie Che comunque Che sia vero o meno Per l'amor del cielo Lo sappiamo È Al momento Sono esaurite Cioè La consegna È a 1 Barra 2 mesi I produttori Dei vari componenti Dicono Queste cuffie Sono Troppo Di nicchia Cioè Non ci aspettiamo Delle gigantesche vendite Ma ora Diciamocelo Qualunque cuffia Da 600 euro Ma anche Da meno Può far aspettare Delle grosse Colossali vendite Quindi Non mi sembra Che abbiano detto Una cosa Così strana Sta di fatto Che secondo me Apple ha voluto Ha presentato Queste cuffie Con delle caratteristiche Non sto a farvi Delle recensioni Non sto a Anche perché Non ce le ho Non sto a dirvi Tutte le caratteristiche Di queste cuffie Che comunque Sono già state Tirate fuori Da un sacco di youtuber Piuttosto che Da articoli L'archetto Che comunque Si adegua Perfettamente Al nostro orecchio Non c'è Una cuffia destra Una cuffia sinistra Cancellazione Del rumore Sono presenti Una quantità Di sensori Incredibili All'interno Di queste cuffie Pannelli magnetici Il tipo di archetto Assicura la massima Comodità Per queste cuffie 10 ore O 20 Adesso non ricordo Di utilizzo Quindi C'è comunque Delle caratteristiche Tecnologiche Sulla carta Che sicuramente Non hanno nulla Nulla comunque Da farsi recriminare Ci mancherebbe Su quello Niente da dire Però Quello che ci interessa È il suono Il suono Ovviamente Io quello che aspetterò Sono sincero Non è una recensione Dagli youtuber Che fino all'altro giorno Hanno recensito Non so Stampanti 3D O hanno recensito Schede madri Io mi aspetto Recensioni Da Quelle Da quelle nicchie Che In qualche modo Possono paragonare Un paio di cuffie Del genere A qualcosa Di Realmente Come dire Audiofil Realmente Come dire Brutta parola Da utilizzare Di qualità Quindi qualcosa Che possa veramente Andare oltre Un paio di cuffie Normali O una recensione Che possa Semplicemente Far capire Che Si suono buone Suonano da dio O Come è successo In precedenti casi Recensioni Dove le critiche Che vengono sollevate Vengono sollevate Da chi Non ha le competenze Effettivamente Per Come dire Giudicare Un tipo Di 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 Tipo Anche perché Teniamo presente Una cosa Come si fa anche a recensire E a capire Quando un paio di cuffie Suonano tra virgolette Bene o tra virgolette Male Allora intanto Devi prendere Un disco Uno 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 Che normalmente Tu conosci perfettamente Che tu hai già sentito Mille sfumature Con mille tipi di diffusori Con mille tipi di cuffie E sai Quel disco Può essere un disco Bene o male qualunque Normalmente è un disco Registrato particolarmente bene Ok Registrato Mixato E soprattutto Editato poi molto molto bene In fase di mastering Quindi quando tu ti trovi in mano Un paio di cuffie Che non conosci Metti su quel disco Ascolti benissimo Quel disco Per capire Effettivamente Come suona qualcosa Che tu hai già benissimo Presente Come suoni Assolutamente Io ho dei miei dischi Di riferimento Che uso Utilizzo tranquillamente Per capire Perché Non è che faccio Recensioni audio Però Ai tempi Diciamo Per provare Quando provavo ancora Un sacco di cuffie Un sacco di Di casse Lo utilizzavi Per capire Come Appunto Come suonavano Questi strumenti qua Quindi Questo è il tipo di recensione Che va fatto Su un paio di cuffie Su uno strumento Dove tra l'altro Appunto È difficile comunicare All'interlocutore Le tue Le tue sensazioni Non è proprio Una cosa così Così semplice Ed è per quello Che io sto aspettando Appunto Come dicevo Delle recensioni Da chi Fa questo tipo Di recensione Ho intenzione Di acquistarle Non nel breve periodo Nel senso che 629 euro Mi paiono Un po' Al momento Eccessivi Per Diciamo Non per un paio di cuffie Cioè prova da spendere Per un qualcosa Che tutto sommato Non ti fa essere produttivo Anche se io giudico Comunque certi strumenti Certa fonte di produttività Io quando lavoro Ascolto tantissima musica E mi aiuta comunque A rilassarmi E anche a concentrarmi Quindi Sì tutto sommato Potrebbe essere Uno strumento di questo tipo Però Diciamo che al momento Non mi mancano Un paio di cuffie Non mi mancano Un paio di casse Ho un paio di diffusori Che utilizzo Vicino al computer Sono diffusori al computer No Sono un paio di monitor Appunto Ho deciso di acquistare Un paio di monitor Semplicemente perché Un paio di Yamaha Sono le corrispettive NS10 Amplificate Non ricordo adesso la sigla Le monitor Yamaha Con iconi bianchi Classiche Che si vedono Negli studi di registrazione Sono Delle ottime monitor Suonano veramente bene Non colorano assolutamente Il suono Quindi restituiscono Qualcosa di molto neutro E ho deciso appunto Di tenere quelle Per ascoltarmi la musica Mentre sto lavorando Mentre appunto Ho un paio di beats Nel momento in cui Sono a caso Comunque voglio In qualche modo Isolarmi molto Di più A non efficace Cancellazione Del rumore Perché mi piacerebbe Provare queste Airpods Max Perché Allora Non posso dire Che i dispositivi audio Di Apple Suonino male Ma Le auricolari a filo Che Vi ricordate Nei vecchi iPhone Suonavano Decentemente C'era di meglio Molto di meglio Sul mercato Tant'è però Avevano un microfono integrato Erano perfette Per l'iPhone Ok Le Airpods E le Airpods Pro Le Pro Non le ho provate Le Airpods ce le ho Le utilizzo Tantissimo Perché sono le auricolari Che utilizzo di più Più che altro Per rispondere al telefono Per parlare Eccetera A volte ci ascolto Anche musica Non hanno Una restituzione sonora Così Eccezionale Cioè Diciamo che Anche qui Le auricolari 160 euro Per un paio di auricolari Non sono una cifra Esorbitante Io ho avuto Un paio di Timotic Di auricolari A filo Che Anche lì ho avuto Una mega occasione Spettacolare Incredibile Ma di listino Sono 400 euro Per un paio di auricolari A filo E suonavano In una maniera Assolutamente Divina Una cosa Incredibile Erano ovviamente Auricolari Che si infilavano Nell'orecchio Queste Le Airpods normali No Suonano bene Si Paghi molto La tecnologia Quindi il fatto Che Le accoppi Con il tuo iPhone Con i tuoi dispositivi E non ci pensi più Altri strumenti Musicali Apple Che ho provato Musicali Nel senso Strumenti Che riproducono musica Insomma Vorrei capire Se queste Airpods Max Sono giustificate Anche dal punto di vista Sonoro Aspetterò un'occasione Aspetterò qualche sconto Perché sono sicuro Che comunque Anche su Amazon Qualche sconto O qualche Amazon Warehouse E vi assicuro Già che ci sono Ve lo consiglio Di dare un'occhiata Ad Amazon Warehouse Trovate il link sotto Perché si trovano Delle occasioni Veramente Pazzesche Veramente Pazzesche Cioè Offerte in sconto Di prodotti Anche solo A volte Magari con la scatola Rovinata E poi in realtà Il prodotto È nuovo Però magari Pagate veramente Cifre A volte Ho pagato Dei prodotti Anche il 50% O meno Su cifre Anche abbastanza Elevate Quindi Magari Mi aspetto Che possano Arrivare In qualche modo O che vadano In sconto Come è successo Appunto Con le Airpods Normali Dunque Io non so Quanti effettivamente Sono arrivati In fondo A questo video Perché è un video Molto particolare Non tratta Di fotografia Non tratta Di argomenti Legati In qualche modo Alla fotografia La post-produzione Blah 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 eccetera Ma effettivamente Me lo sentivo Di fare un video Del genere Semplicemente Perché la musica La riproduzione Anche sonora È una cosa Che mi è sempre stata Molto a cuore Ultimamente Ripeto Non ci sto molto dietro Ascolto tanta musica Però Apple Music Spotify Quindi Le mie soggenti musicali Sono quelle Benché Abbia Non potete vedere Ma un sacco di vinili Diciamo che Per riuscire a Dedicare tempo Alla musica Per ascoltarla Veramente in maniera Come dovrebbe essere Ascoltata Quanto meno Secondo i miei criteri Diciamo di tempo Non ce n'è Quindi Ci si arrange Un po' Come si riesce Vi ricordo come sempre Di iscrivervi al canale Attivare la campanella E mettere un like al video Vi ricordo anche Che se dovete fare Degli acquisti su Amazon C'è il link Di Amazon Sotto Potete utilizzarlo Anzi dovete utilizzarlo Mi supportate col canale Ci sono altri link Telegram di offerte Giornaliere Su Amazon Quindi guardate sotto La descrizione Che non è messa a caso Apritele Ci sono veramente Delle informazioni Dei link Interessanti Apritele Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti